Buongiorno, buongiorno e buon lunedì signori miei, che sia un buongiorno per davvero, ve lo auguro perlomeno. C'è stato un episodio in Lazio-Milan, un episodio di cui io non avevo parlato, che non avevo notato anzi, in onestà, un episodio che per me non aveva nessun peso, nessuna valenza, sto parlando del sorriso, della risata ironica, sarcastica, attribuite voi stessi un aggettivo che qualifiche bene la scena, eccolo qua. E alla risata poi è seguita la rabbia, la frustrazione di Mauro, si è successo il suo compagno di squadra. Poi sui social la Cervi ha detto la sua e siamo qui a discuterne, a parlarne, perché poi di Lazio-Milan si è parlato anche, credo, ahimè, soprattutto di questa roba qua. Ma, sì, triste e verità, ma si è parlato soprattutto di questa roba qua. Ed è questa proprio la vera notizia, che nel 2022 noi stiamo qui a parlare del fermo immagine di una risata isterica. E questa la notizia. Non passo alla volta, ci arriviamo. Prima cosa è accaduto, poi cosa ne penso. Infine, io mi fiondo sui commenti per vedere cosa ne pensate voi. Quindi scrivete in massa, dicendo la vostra, in maniera limpida, senza troppe pagliacciate, perché già di cose bestiali ne sto sentendo troppo. Cerchiamo di essere civili, perché vedo che di civiltà ne sta rimanendo ben poco. La civiltà non è che rimane o meno. La civiltà non è che... Vabbè, scusate. Prima di partire vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti. I contenuti, domani arriva il recap. Arriva per davvero. Volevo farlo già stamattina, ma poi mi sono detto, aspettiamo la classifica completa, belle, con tutti i risultati. Aspettiamo tutto e valutiamo. Tanto non si va da nessuna parte. Per cui iscrivetevi. Mi raccomando. Cosa non meno importante, rimanete aggiornati tramite OneFoot. Dove potete recepire ogni novità. Io appunto tramite OneFoot.com mi sono documentato sul contenuto di cui stiamo parlando. Highlights. Ogni notizia, una novità, come vi dicevo prima. Calendario, classifica sulla vostra squadra del cuore. Potete ricevere qualsiasi aggiornamento del caso. Tutto gratuitamente. Quindi, link in descrizione. O qui è il code. Fiondatevi, mi raccomando. Scaricatela. Portatela all'interno del vostro device. Detto ciò, andiamo, andiamo, andiamo a parlare di ciò che è accaduto. Il Milan segna il secondo gol, il gol della vittoria, il gol di Tonali. Andate tramite OneFoot.com a rivedere l'highlights se vi siete perso in azione. Così capite benissimo. Praticamente, Maricic, poi ci, e poi approfondiamo, Maricic perde palla. Bravo Rebic a sradicargliela. Pallone nel mezzo. Acerbi. Non sappiamo se il portiere l'abbia chiamato o meno. Se vogliamo proprio andare anche a parlare un po' della tecnica. Quindi se c'è un errore grave o meno a seconda. Va bene. Su questo poi approfondiamo. Quindi palla spizzata che rimane in aria. Si fionda Ibra e poi sapete il resto è storia. Ma al gol subito come reagisce Acerbi? Reagisce con una risata ironica, sarcastica. La vedete qui all'angolino sinistro del video. Dopo, Maricic, appunto, vedendo ciò, si fionda sul difensore e gliele dice quattro. Sui social trovate anche un mini video di un paio di secondi dove si vede il tutto. Ma la sostanza è questa. La sostanza è questa. Acerbi poi dice sui social, sul suo profilo Twitter, Ora basta, ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C'è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiedo scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me. Tralasciando la moltitudine di commenti dove c'è soltanto bile, dove c'è soltanto veleno, frustrazione, dove vengono dette e riportate le peggio cose, come ho già detto, nel 2022. Noi siamo qui a parlare di un fermo immagine di un giocatore che ride, sorride istericamente in maniera sarcastica. Stiamo a parlare di questo, stiamo a parlare di gente che prende questo fermo immagine per vomitargli addosso le peggio cose. Siamo a questo punto. Io proprio di questo, a questo non voglio riplicare, non voglio aggiungere altro, perché questo già si commenta da solo. Già si commenta da solo. Oppure se vogliamo, ci sono anche quelli che hanno il retropensiero del, del, che ne so, del, come si dice in questi casi, da ufficio inchiesta. Cioè, i complottisti che pensano che abbia venduto la partita. Cioè, siamo a questo. Cioè, uno vende la partita, non ha nemmeno la forbizia di mascherare con una finta rabbia. Cioè, vabbè, non voglio arrivare a parlare di questo. Basta. Già ci ho speso 30 secondi dicendo che veramente questi commenti lasciano il tempo che trovano. Ma quello che a me fa discutere è l'atteggiamento di Marusic. È l'atteggiamento di Marusic. Cioè, la risata ironica non la capisce solo chi non ha mai provato emozioni. E credo che a questo mondo tutti proviamo delle emozioni. Poi lo so che da fuori è facile e quindi quando si ha l'animo caldo, l'animo, quando si è avvelenati, appunto, per una partita aperta, ci può stare... No, no, oddio. Ci può stare che sei poco lucido. No, che vomiti, veleno, rabbia e frustrazione. Questo non ci sta mai. Che sia chiaro. Ci può stare che uno sia poco lucido. Però, quello che non capisco è che gente professionista, lo ripeterò a gente professionista, che si dovrebbe capire il momento, vada... Cioè, quello che ha fatto Marusic per me è qualcosa di folle. Cioè, quello che ha fatto Acerbi è vita quotidiana. Cioè, perdi una partita del genere, subisci un gol nei minuti finali. E' normale che una risalte esterica è nervosa, sarcastica, chiamatela. E' una roba normale. Cioè, solo chi non gioca a pallone... No, no, scusate, ho detto una scemenza, datemi uno schiaffo. Solo chi non prova emozioni non può capire una risalte esterica. No, chi gioca a... Questo non c'entra un cazzo di giocare. Solo chi non prova emozioni. Ok. E quindi Marusic. Cioè, Marusic fa una roba folle. Perché poi, se vogliamo parlare di errore tecnico, dell'errore tecnico di Acerbi, che poteva spazzarla magari di testa e indirizzarla in angolo, magari la poteva lasciare al portiere, non sappiamo se gliel'abbia chiamato o meno il portiere. Non lo sappiamo, ma magari l'ha spazzato uguale. Ok, è un errore. Comunque è un errore quello di Acerbi. Ma nulla è più grave di quello che combina Marusic. Marusic ha fatto una roba, tecnicamente parlando, folle! Dalla linea di centrocampo, si è portato il pallone, se l'è portato nella linea di rimessa, quasi verso la linea di rimessa, senza mai scaricarlo a nessuno. e poi l'ha perso in maniera goffo, goffo lo perde, si fa scippà la palla di Rebic, e lui si vede in maniera goffa, andate, e poi te la prendi anche con Acerbi. Quella è follia, eh! Ma folle per davvero! davanti alle telecamere, ma al massimo, arriva negli spogliatoi, glieli canti quattro, vi dite quello che vi dovete dire. Ma al primo, il primo ad essere arrabbiato con se, se doveva essere Marusic, perché ha fatto una roba folle, una roba folle! E ripeto, io non voglio parlare dei fermi, non voglio arrivare a parlare del fermo immagine, o un minimo di dignità, cerchiamo di conservarla in questo paese, perché vedo che spesso e volentieri la perdiamo, la perdiamo per scemenze, non voglio... Però, parliamo di quello che è successo in campo, e allora a questo punto parliamo veramente di questa diatriba, cioè tra compagni, quello che lo va a sgridare, dopo che ha fatto una roba folle, lo va a sgridare su... per cosa poi? Per una risata ironica e sarcasta? Beh, io, io francamente, non so più che dire, ormai vedo delle robe che... forse sono sempre esistite, per carità, per carità, assolutamente, magari ci sarà stato, però... non lo so, francamente non lo so, io a questo punto chiedo veramente, a mettere quella che è la vostra... quella che è la vostra opinione, fatemi... fatemelo sapere sotto, e perché no... aggiorniamoci, aggiorniamoci, un grande abbraccio, ore e che, gli arriviamoci, nos vienezukuk, un ecco insieme, invece significa› un ecco insieme, ormai estfu, non è bellissimo... e sia la sua opinione, la nostra opinione... e santo è un po' richtige cosa, a qui pensare... Grazie.